Venerdì 12 giugno 2020. È il 164esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei gemelli. La chiesa ricorda Santo Onofrio Anacoreta. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Onofrio. Il nome ha origine egizia e significa colui che sta sempre bene. Il numero porta fortuna è il 2 e il colore è il bianco. Accadde oggi. Il 12 giugno del 1965 i Rolling Stones lanciano la canzone Hiking Erno Satisfaction che diventerà uno dei brani più celebri della storia del rock. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati il 12 giugno ricordiamo l'astrofisica Margherita Huck e il cantante Francesco Renga. La citazione del giorno. Le adolescenze troppo caste fanno le vecchiaie dissolute. André Gide. Dice il saggio. Il modo più facile per trovare una relazione platonica è sposarsi. Il bel paese. Nascosto in un bosco di lecci, il convento di Fonte Colombo, presso la città di Rieti, è uno dei quattro santuari che delimitano il cosiddetto Cammino di Francesco. Questo è il monte scelto dal santo per stilare la regola definitiva del suo ordine. All'interno del bosco si trova il Sacro Speco, ovvero una grotta naturale in cui Francesco scrisse la regola. Il complesso conventuale è costituito da una piazzetta su cui si affaccia la chiesa consacrata nel 1450. Più in basso si trova il rumitorio di San Francesco, dove il santo subì l'operazione agli occhi.